Aveva sparato in aria per intimidire i ladri che per l'ennesima volta stavano rubando nella sua azienda. Ora Armando Bovo, imprenditore 83enne di Rubano, è stato denunciato. L'episodio risale ad appena dieci giorni fa, la notte del venerdì santo. L'uomo che abita accanto alla sua ditta, sentendo strani rumori e poi l'allarme, aveva imbracciato il fucile ed esploso un paio di colpi con l'intenzione di intimorire i ladri che però erano riusciti a scappare con 1500 euro di rame. Ora da vittima è passato dalla parte del torto con una denuncia per esplosioni pericolose e oltre alla denuncia in procura e in prefettura è stato aperto un provvedimento amministrativo. I carabinieri nei giorni scorsi si sono presentati alla porta di Bovo e gli hanno sequestrato e la mezza dozzina di fucili che l'imprenditore, cacciatore da molto tempo, deteneva regolarmente nella sua abitazione, sequestrato anche il porto d'armi.